eccoci qua siamo a roma stiamo festeggiando dopo andiamo a vedere la partita roma napoli ovviamente forza roma un solo grido forza roma silvio proprio perché non credete che siamo a roma adesso vi faccio vedere ecco qui una scuola con lo 06 06 siamo al famoso ristorante il galeone come potete vedere siamo a roma per la grande partita roma napoli